Inaugurazione Anna Accademico dell'Università, una presenza importantissima, ha detto la rettrice, la professoressa Paola Inverardi, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha accettato l'invito dell'Ateneo a partecipare, a presenziare a questa inaugurazione. Una visita che ha anche un alto valore simbolico, il Presidente ha deposto una corona alla Casa dello Studente, inaugurazione Anna Accademico, onna e poi l'inaugurazione dei nuovi uffici giudiziari. Queste le tappe di questa visita molto attesa, è la prima volta, lo ricordiamo che Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, viene nella città dell'Aquila. L'Aquila ha bisogno della sua università, fondamentale il rilancio anche in questo senso. L'università ha in definitiva un ruolo centrale per la rinascita dell'Aquila. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato questa mattina all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Aquila. Un'organizzazione in grande stile, emozionata la rettrice Paola Inverardi, che al Presidente ha fatto leggere anche i numeri risultati dell'Ateneo Aquilano, chiedendo un aiuto al Governo centrale, che sia sempre attento alle esigenze dell'Università. Essenziale questa nel processo di ricostruzione della città. Va al di là di un mero significato simbolico. Per noi l'inaugurazione dell'anno accademico è l'elemento di apertura a quello che faremo nell'anno che viene, e quindi al futuro. Quindi il fatto che lo possiamo fare alla presenza del Presidente della Repubblica italiana è un po' per noi come farlo alla presenza di tutti gli italiani, che alla fine in noi e su questo territorio hanno creduto, continuano a credere, continuano a credere nella nostra capacità di andare avanti e di costruirci un futuro certamente diverso da quello che avevamo. Io chiederei che venga mantenuta alta l'attenzione, perché c'è il rischio che dopo alcuni anni il tema terremoto occupi una posizione marginale, cioè venga lentamente rimosso dalla coscienza della comunità nazionale. La presenza del Presidente è segno di una condivisione di cui abbiamo bisogno.